Sfiorati 3.000 interventi nel 2024 dai vigili del fuoco di Isernia, da sempre in prima linea nelle situazioni di emergenza sia pubbliche che private. Non solo incidenti, ma anche soccorso a persone, salvataggio di animali, interventi sulle strutture e sugli alberi pericolanti. In occasione della celebrazione di Santa Barbara, patrona dei Caschi Rossi, è stato tracciato il bilancio delle attività svolte fino a dicembre. Purtroppo c'è stato un incremento dovuto alle avversità atmosferiche e alle avversità che ci sono state. Le temperature increscentamente hanno comportato una campagna di incendi boschivi che si è prolungata con un numero di incendi che purtroppo hanno raggiunto complessivamente oltre gli 300 ettri bruciati tra boschi e non boschi. In più ci sono state tutta una serie di calamità naturali dovute proprio alle condizioni meteo avverse, al nostro territorio che è particolarmente vulnerabile, pensiamo al rischio legato alle olivioni, ai smottamenti, alle piccole frane. Insomma è un territorio che va tutelato. Particolarmente apprezzato il momento delle esercitazioni con le scolaresche, con gli alunni che hanno potuto effettuare il percorso sotto la supervisione dei Vigili del Fuoco. Oggi la nostra caserma è aperta alla cittadinanza e infatti oggi abbiamo una scuola, il complesso di Cerro Volturno, che ha portato i suoi bambini e stiamo svolgendo una piccola Pompeuropoli per avvicinare i bambini a quella che è la cultura della sicurezza che è promossa dei Vigili del Fuoco. E mentre nel salone di rappresentanza è in corso di svolgimento la Santa Messa, dagli altoparlanti arriva il richiamo alle squadre per un intervento in città. La sicurezza non può aspettare. Vigili del Fuoco.